Buon packaging a tutti! Oggi vi raccontiamo un nuovo prodotto della gamma BB Packaging, il nastro strapping. Andrea, ma quali sono le caratteristiche del nastro strapping? Prima di tutto un'altissima resistenza allo strappo, grazie al suo spessore e all'invecchiamento. È un prodotto che non rilascia collanti sulle superfici e quindi è applicato ed è green, nel senso che è privo di solventi. Però ottima composizione, ottimo tutto, ma qual è il suo utilizzo? Allora la particolarità proprio per le caratteristiche che tu hai elencato è quella di poter pallettizzare dei carichi, stabilizzare dei carichi pesanti e in fase di rimozione dello stesso chiaramente non rovinare la superficie su cui ho applicato. Un'altra applicazione molto importante è quella di poter fissare tubi o barre. Detto questo, i formati disponibili? Partiamo da un 15x66, 19x66, 25x66, fino a un 50x66. I colori disponibili, i careti quali sono? Partiamo da un rosso aragosta, un nero a notte, un nero a notte, sì. E' un trasparente mare. Mare, trasparente mare, fare pulire chiaramente. Questo è quello che facciamo con passione tutti i giorni, soluzioni nel mondo del packaging. Rimanete in ballo con noi! Grazie!